Non l'hai baciato perché non l'ha voluto. No, 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 assolutamente Tina. Perché tu eri lì brutta tipo Gemma. No, assolutamente Tina, se lo volevo baciare lo baciavo, io non mi trattengo su queste cose, cioè se provo delle emozioni non le faccio venire, sono trasparente. Ma non l'hai fatto perché lui non l'ha fatto. No, assolutamente, assolutamente, l'ho spiegato anche a lui, non si è visto, ma io gli ho spiegato che tra di noi non c'è quel... Quella situazione è che siamo sereni tutte e due per andare avanti. Che c'è? Tu, Andrea, avevi la sensazione che lei ti potesse baciare se tu ci provavi? Ma io non l'ho fatto, Maria, per me stesso, poi... No, ok, ma pensavi che lei avrebbe corrisposto al bacio o no? Ma secondo me sì. Natalia? Io no, non l'avrei baciato. Cioè, nel senso, in quel... no, aspetta, aspetta, allora... In quel momento io stavo benissimo, ma l'ho sempre detto che io con Andrea sto bene, è palese la cosa, però in quel momento ho pensato anch'io, cosa bacio un ragazzo che alla fine non ho certezze neanche io, nessuno dalle due parti. Grazie. 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 Grazie.